partiti anche gli allievi la prima batteria è composta da Cristian Capozza dei patinatori Spinea, Riccardo Favro di un roller parcia, Elia Nisi vado Ligure, Giorgio Nisio Erba l'atleta del Roma 7 patinaggio di Marco Rubì del Toroschi l'atleta del Roma 7 in testa in questa fase ricordiamo che cedono alla finale i 6 migliori partita questa seconda batteria composta da Yuri Leverato dei patinatori Spinea Alessio Gualane del Roma 7 patinaggio Cristiano Sitnic patinatore in San Mauro Giovanni Capecci della Lunas Force Academy e Pietro Valbera dell'Ampice Figato Noi! Noi non ti fermare! Alessio non ti fermare il crociatutto Trecno! 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 Siamo, grande grande sprint sul rettilineo d'arrivo Partiti, Daviano, Fabriz, patinatore in Sinea, Andrea, Formanzo, Stepping Club, Robigo, Michele, Rossetti, B-Roller, Arturo, Ferenti del Bononia e Mattia di Bari poi... Ok, ok... Eccoli! Ok, Eccoli! Ok, Eccoli! Di Romer questo 2 è da in testa meno uno! vai Mattia Rosetti è riuscita la curva da gestione Trovaldo sono partiti Piotr Molinaroli dell'altececcato Andrea Margiotta Gabriele Moro Daniele Ferrarini H.P. Padova Andrea Giolo Mattia Bruncao della Polisportiva Casier Padova che passa per primo sul traguardo dell'ultimo giro a il cielo P Tankiao Pino alla fine Pino alla fine Stiamo a sfiri di Daniele Ferraron con la cora della metodale Spinea altececcato Grazie.